Un'altra domanda riguarda l'Eurovision Pre-Party, perché vedo che ti prendi parte in molti Eurovision Pre-Party. Qual è l'importanza dell'Eurovision Pre-Party per ottenere un buon risultato in Eurovision Song Contest? C'è più la pratica inoltre. È una buona pratica per essere sul stage. Penso che è importante essere aperti alle critiche delle persone. Molti fatti più fatti e più fatti in Eurovision seguirei le Pre-Party e ti prendere basso su questo, sapendo che ti mostrerai un parte minimale. Penso che è importante ascoltare ciò che hanno chiesto di dire, che si attraversano per la cosa reale. Le Pre-Party sono una buona possibilità di essere in fronte di queste persone, presentare te lo meglio che puoi, e poi per la cosa reale, ti prendi tutto il tutto. È una buona pratica. La ultima domanda riguarda l'U.S.A., perché vedo che cresci in U.S.A. Qual è la sensazione dell'Eurovision Song Contest in U.S.A.? Perché ora c'è un contesto americano. Non sono parte dell'Eurovision Song Contest in U.S. Non sono parte dell'Eurovision Song Contest in U.S. quindi non posso dire come è vero. Ma credo che è incredibile che fanno questo. Ovviamente sono nato in Massachusetts, e sono nato in Maryland. Quindi ovviamente stai supportando l'Eurovision Song Contest in U.S. e spero che uno di loro vengono. E vediamo. Credo che è incredibile che fanno questo. È fantastico. Non mi aspettare a ascoltare le cani. Grazie molto. Posso spiegare qualcosa del loro lopera? Si. Per la strada. Poi, Polonia supporta l'U.S.A. sempre. E sono incredibilmente orgoglioso di poterciare il mio paese e rappresentare il mio paese che è in supporto e accettare tutti i i i sfortuni. quindi spero che tutti i giovani tornano a loro famiglie sicuro e sicuro a loro mamma, a loro, a loro, a loro, a loro famiglie mi sento bello dire questo perché me sento a questa parte mi sento che non c'è nulla cosa che posso fare per aiutare e cantare non è sufficiente hanno bisogno di più di questo e per questo mi sono felice di essere parte ma non possiamo immaginare cosa stanno passando spero che sono sicuri e che i casa sono sicuri grazie mille grazie